basta sono stufo di stare in casa voglio tornare libero libero ma sono libero ciao ragazzi oggi la parola del giorno è stufo stufo è un aggettivo che si usa per una persona quando non ne può più di una situazione quando vuole dire basta come già uno è stufo di stare in casa ciao